Per me la barcolana era un giorno di festa e quindi venivo qui per partecipare e basta. Non ho mai cercato una barca vincente e quindi non ho partecipato all'evoluzione dei vari Gaia Legend piuttosto che Riviera di Rimini. L'ho fatta perché appunto mi è stato quasi imposto di vincere una barcolana e quindi con Vasco, con tantissimi bellissimi e meraviglioli, con Paolo Cian abbiamo partecipato a quello che credo fosse il trentennale e l'abbiamo vinta. Per il resto con i Maxi One Design che sono delle corriere praticamente portiamo molti ospiti a bordo proprio per fargli provare la gioia di partecipare a una barcolana. La più bella? La prossima sicuramente, tutte belle, tranne qualcuna forse con la bonaccia, quelle sono noiose. Lo spirito è meraviglioso perché è una regata unica e si incontrano dei personaggi meravigliosi e soprattutto credo la cosa più bella è che in partenza trovi delle persone che magari sono state due volte in barca e che si ingazzano con te e tu le devi anche un po' insegnare il regolamento per districarsi e quindi partire. Grazie. Grazie.